Un piccolo regalo di Natale rivolto ai bambini e ai ragazzi del quartiere Angeli è così che viene annunciato l'arrivo di porte di calcetto da sistemare all'interno dell'ex bocciodromo grazie alla sinergia tra amministrazione e associazioni. L'amministrazione comunale infatti si occuperà delle porte di calcetto e della messa in opera, sia delle porte che della rete di protezione con i relativi pali che invece vengono donati da alcune realtà del territorio, e cioè Caritas, Fidas, Legambiente, Rotary e Slow Food. Un'idea che viene incontro alle esigenze dei giovani che vivono nel quartiere. Ce l'ha fatta una rete bella alta e due porte, ecco e di là è venuta l'idea di fare rete, quindi abbiamo chiesto al comune, il sindaco si è mostrato subito disponibile a recuperare due porte di calcio. Poi Legambiente e altre associazioni come la Fidas, come la Caritas, come Slow Food, come Rotary, ecco, si sono messi a disposizione e hanno comprato la rete, i tubi per fare appunto, per fare questo regalo di Natale ai ragazzi. Abbiamo colto volentieri l'invito di Legambiente e degli altri partner interessati a questo progetto, voi sapete che Fidas da oltre 50 anni è impegnata nel sociale, e quindi abbiamo pensato anche nell'ambito di questo progetto che ha come missione la riqualificazione urbana, quello di poter partecipare e quindi di poter aderire alle richieste che ci sono state fatte, con l'obiettivo appunto di reclutare nuovi donatori anche in questa realtà, affinché insomma la nostra famiglia di donatori, insomma, Fidas possa crescere sempre di più. Aggiungo che quest'anno per Fidas sarà un anno storico, poi magari ne parleremo a fine anno, però i numeri che raggiungeremo nel 2022 ci incoraggiano per il proseguo anche dell'anno a seguire. Raggiungeremo, credo, il record di donazioni mai segnato in questi 50 anni. Le porte verranno installate nello spiazzeggiamento che si trova vicino alla scuola e al terreno in cui si sta realizzando l'orto sociale che verrà consegnato nel mese di marzo. E' stata fatta l'aratura, è stato fatto lo spietramento, deve essere fatta ancora un'ulteriore aratura, un'ulteriore, come dice, una fresatura che sarà fatta però a ridosso della consegna degli orti. Saranno 30 lotti da 40 metri quadrati, una parte saranno destinate alle famiglie più svantaggiate del quartiere, altre saranno andate ad associazioni, a chiese, a chi alla scuola che è qua vicino. Sono stati fatti lavori idraulici, elettrici, si sta predisponendo il tutto per essere pronti, ripeto, ai primi di marzo.